Ci ritroviamo in compagnia di Rocco Hunt. Ciao Rocco. Ciao. Per parlare del tuo nuovo progetto discografico intitolato Libertà. Che significato attribuisci a questa parola e a questo disco? Libertà è una parola che per me può intendere tante cose. In questo caso è la libertà di potermi esprimere nella maniera che più mi piace, nella mia lingua, il napoletano e il dialetto. E la libertà magari di fare un album libero, spensierato, senza pretese, descrivendo semplicemente il mio stato d'animo attuale, dei momenti in cui scrivevo le canzoni e del momento storico che corriamo ora. E che momento storico viviamo ora secondo te? Come lo guardi? Beh è un momento un po' superficiale secondo me, nel senso dipende da che punto di vista lo guardiamo. Nella settimana in cui cade il governo cadono anche un po' le speranze penso della nostra gente. Un momento un po' dove contano tante cose che magari non sono superfue, non sono importanti. E in questo i social secondo te hanno un ruolo, il web, internet, in questa confusione? Peggiorano, migliorano? Beh dipende uno come usa i social, nel senso che comunque se uno li usa in una maniera intelligente, positiva, sicuramente ne può trarre benefici. Se uno li usa in una maniera diciamo persuasiva danneggiano l'individuo. Questo è il tuo quarto album che segue Poeta Urbano, A Verità e Signor Ant. Quali novità, quali innovazioni aggiunge e se ci sono delle analogie rispetto a questi precedenti lavori? Beh sicuramente le tematiche sono praticamente vicine perché comunque non immaginerei mai un album che non parla della mia terra, del mio dialetto, della mia gente, della mia libertà ecco. Però sicuramente in quest'album c'è Urloquanto 2.0 che si può vedere nelle ultime tracce che ho aggiunto all'album che sono quelle un po' più trap neo soul se vogliamo definirle così, che sono praticamente le tracce un po' più napolegne, quindi tutto in dialetto napoletano su delle basi diciamo più attuali e quelle rappresentano secondo me la mia evoluzione attuale, secondo me. Quindi la melodia abbinata comunque a delle produzioni fresh. E quanto tempo c'è voluto per la realizzazione? Perché forse questo è il disco più gestato. Sì, 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 perché tutti gli album precedenti sono stati rilasciati ad un anno di distanza tra di loro, no? E in quest'album diciamo che per la prima volta c'è stata una lavorazione abbastanza impegnativa, ci ho messo quasi tre anni per farlo uscire. Infatti penso che non aspetterò mai più questo tempo per farlo uscire un album, ci metterò sicuramente meno tempo. Veniamo alle tante collaborazioni presenti da Achille Lauro a Clementino, a J-Ax, Bundabash, eccetera eccetera. Come sono nati tutti questi incontri, come li ha selezionati e che valore aggiunto ha dato ognuno di loro? Alcune delle collaborazioni già erano state provate, testate nello scorso album, alcune sono nuove, infatti abbiamo fatto questa combo esplosiva, questa combo fatale Bundabash e J-Ax sulla stessa traccia, che è una bomba, il pezzo ti volevo dedicare. E poi c'è la collaborazione con Achille Lauro e Boss Dom, sì in me più, c'è Neffa, che è uno molto restio per quanto riguarda le collaborazioni e fa uscire musica nuova, però a me dà sempre fiducia, questa cosa mi piace tanto, fino ad arrivare alle nuove generazioni tipo Nicola Siciliano, Jolier, Speranza, tutte le nuove leve campane che mi fa piacere supportare e tirare in ballo nel progetto. Due partecipazioni in gara a Sanremo, escludendo naturalmente la recente ospitata con Bundabash lo scorso febbraio, non c'è due senza tre, stai pensando in qualche modo a presentarti, hai messo da parte qualcosa per... Allora, con molta sincerità, in quest'album ho messo tutto quello di buono che avevo, quindi non è che c'ho un pezzo nel cassetto per Sanremo, molto sinceramente, però molto sinceramente ti dico che comunque Sanremo è una vetrina importante, è un palco che mi ha dato tanto, a cui sono riconoscente, quindi se non è quest'anno, è l'anno prossimo e fa tre anni, io sicuramente sul palco di Sanremo ci vorrò ritornare, non so ancora quando e quando lo farò, lo farò in maniera conscia come ho fatto nelle altre due volte, con due brani che dicevano qualcosa anche al di fuori della canzone stessa, quindi Sanremo è Sanremo, non si sa ancora quando, però non è un addio, ma non arrivederci. Che ruolo ha la musica nella tua vita, nel tuo quotidiano? La musica penso che è tutto, attualmente la musica, il lavoro che gira intorno ad essa, la produzione della stessa, il lavoro che gira intorno alla musica è parte integrante di tutto, io credo che la musica sia il 70-80% della mia giornata. Come valuti l'attuale settore discografico, quello che c'è intorno attualmente, la situazione? Io credo che per fortuna c'è tanta biodiversità, nel senso che si convive tra generi, ognuno vive la propria esperienza, per fortuna si lavora tanto per quanto riguarda vari generi, si riesce a coesistere tranquillamente. Poi ognuno, è chiaro che rispetto al mio ultimo album la situazione discograficamente parlando è cambiata, perché c'è stato l'avvento dello streaming, dell'era digitale e tutto, però noi combattiamo e combatteremo per far sentire la nostra voce sempre. A breve ritornerai con il consueto giro dei firmacopi e riabbracciarai il tuo pubblico, anche il tuo pubblico, sono tre anni che non lo abbracci, come ti ha supportato in questo tempo e quali sono le tue sensazioni a riguardo? Beh, in realtà io dovrò ringraziare io loro, perché nel senso che per aver aspettato così tanto tempo un album bisogna essere innamorati per forza, no? E io sono felice, perché in un'epoca dove dopo sei mesi cambia tutto, cambia la carriera, cambiano nomi, c'è gente che prima fa il cantante e poi il panettiere tre giorni dopo, quindi per fortuna essere riuscito a sopravvivere tutti questi anni all'interno di questo business, che è anche un business abbastanza impegnativo, devo dire che sia una bella soddisfazione, regalare emozioni credo sia la cosa più bella che si possa fare. E per concludere Rocco, qual è l'insegnamento, la lezione più importante che pensi di aver imparato dalla musica in questi anni di attività? Beh, l'insegnamento più grande è sicuramente quello che bisogna, con poco puoi fare belle azioni, puoi fare tanto per la gente che ti segue, nel senso che comunque prescide dalla musica, del cantante, del cantato e di tutto il resto, ci sono proprio le buone azioni, la gente si ricorda, di bravi cantanti ce ne sono tanti, quello che ti ricorda la gente di te non è la voce, la melodia, la canzone, il testo, alla fine di tutto, quando si ferma la giostra, la gente ricorda ciò che sei stato tu per loro, no? E quindi di conseguenza le buone azioni, che a volte per noi cantanti costano pochissimo, magari ad altri possono risultare cose immense, quindi il seminare bene è sicuramente la cosa più bella. Perfetto Rocco, grazie, buona fortuna e buona musica. Grazie a te, grazie mille.